Sì, Presidente, vorrei che rimanesse verbale ciò che ho già detto durante l'HP Gruppo per quanto riguarda i 12 colleghi che saranno questa mattina nel convegno sulla figura di Martina Zioni, non essendo una visita istituzionale del Presidente Mattarella come lei stesso ha ben evidenziato, ma è neanche presente sul sito del Quirinale, noi, tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle non concorda sulla concessione del congedo per motivi istituzionali per questa mattinata ai 12 colleghi. Grazie.